Il sipario abbassato in agosto si risolleva a novembre. È stata presentata oggi nel comune di Pesero una straordinaria appendice autunnale alla tradizionale edizione estiva delle Rossini Opera Festival, contrattasi nel programma 2020 per rispettare le norme anti-covid. Ora ecco il Roffa autunnale, che comincerà il primo novembre allo sperimentale con il concerto finale dell'Accademia Rossiniana Alberto Zedda e si concluderà il 29 novembre con l'ultima delle tre recite in programma del barbiere di Siviglia messo in scena da Pierluigi Pizzi al Roffa 2020. Capo e coda di un Roffa autunnale che proporrà anche due recite del viaggio a Rams con gli allievi dell'Accademia Rossiniana 2020. E ancora una selezione dei pescè de vieillez eseguita dal pianista Alberto Marangoni e due rarità mai eseguite al Roffa come la Messa di Milano e il Miserere. Così come siamo stati un po' limitati nella edizione normale di agosto cerchiamo di pareggiare i conti con le date, con le recite, con l'impegno nostro soprattutto in vista di un contatto maggiore con la città. Per cui faremo questa appendice alla edizione di agosto con diversi concerti e diverse recite d'opera. Io mi auguro che fra poco, quando ci sarà il nuovo decreto, ci si possa permettere di avere più gente in sala, in maniera che più gente possa godersi delle belle recite che faremo. Il Barberio di Siviglia di Pizzi era stato salutato da tutti come una delle cose più belle viste e anche il viaggio a Rams con i giovani è sempre una gioia a sentire. Un meccanismo che si rimette in moto, fa parte di una strategia ovviamente di fare lavorare attorno all'opera, attorno al festival, oltre all'edizione d'estate che ripeto rimane il fulcro però anche in tanti altri momenti, in questo caso con una produzione importante come il Barberio di Pizzi e poi subito dopo si sarà pronti per la tappa Inoman che rimane una costante di questi anni anche in termini appunto non solo di messaggio dell'Italia all'estero e della musica attraverso Rossini ma anche qui altro lavoro per gli artisti e per la maestranza e per un settore che in questo anno particolare, tra l'altro anche particolarmente dovuto attendere, ha particolarmente sofferto. Quindi a maggior ragione è importante questa operazione perché ripeto ci permette di fare cultura, di fare insomma rivivere i teatri e anche ovviamente di dare più forza e più sostanza all'attività dell'ossina per la festival.